L'Ara Famularia stessa riuscente delle politiche sociali viene aggredita quasi fisicamente al termine di un confronto tra i due candidati a sindaco. Tutto il PD di fatto presente gira la testa dall'altra parte e l'unico intervenire è clato, una brutta e triste pagina della politica triestina. Sì, è veramente una brutta pagina perché anche questa ieri sera poi dopo sui social media, su Facebook eccetera ho denunciato la cosa pubblicamente ma non per il fatto in se stesso quanto per il clima mafioso che si sta veramente, squadrista, che si sta vivendo in questa città in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Siccome io ho vissuto personalmente all'inizio degli anni 90 la storia tristissima di Eraldo Cecchini che è stato ucciso da uno squilibrato, io continuo a dire che bisogna stare attenti a quello che si dice, a quello che si fa e soprattutto a quello che sono gli atti che bisogna compiere. Perché ripeto, qui non è che stiamo parlando in se stesso di esponenti del centro-destra che hanno minacciato di morte, non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando di persone che hanno circondato l'assessore Famolari e che hanno cominciato a urlare di tutto. E questo stava giustamente per saltare le nervi, stava per svenire, stava per succedere qualcosa veramente brutto nel senso che stava per avere, io avevo paura per la sua incolumità, di conseguenza sono intervenuto nell'indifferenza, come hai detto tu, di tutti quanti. Perché ormai sta passando il messaggio che si può fare tutto, queste sono delle cose che sono inaccettabili e lo dico per par condizio, questa mattina già è successo un paio di volte che anche persone di centro-destra li ho difese, perché siamo arrivati a questo livello qui. Cioè per strada la gente comincia a insultarsi, comincia a dirsi di tutto, ma ragazzi stiamo parlando di elezioni comunali, chi vince vince e chi vince governerà, se vince Cosolini governà a cinque anni, se vince Di Piazza governà a due, tre anni, cinque anni, cosa ne so io. Però cerchiamo di stare tutti quanti tranquilli, calmi e attenti.